diciamo questo modello austria questo green pass rafforzato poi non è suscettibile di critiche di rilievi ricorsi per il tipo di discriminazioni se vogliamo usare questa parola comunque di differenze che introduce mi unisco al coro di quello che è stato detto dal sindaco di verona e dalla signora villa io penso che ci sia un obiezione di fondo alla soluzione del lockdown riservato alle persone non vaccinate ed è costituita dal fatto che l'articolo 16 della costituzione aggiunge l'espressione in via generale lockdown vuol dire vincolo alla libertà di circolazione delle persone la nostra costituzione dice che può essere limitata la libertà di circolazione per motivi riguardanti la salute ma questo limite alla libertà di circolazione deve avvenire dice espressamente la costituzione in via generale quindi a mio modo di vedere non è questa la soluzione bisognerebbe pensare innanzitutto all'obbligo generalizzato per gli addetti alla sanità e questo mi pare elementare bisogna controllare di più il rispetto dei vincoli che esistono già per esempio oggi siamo circondati da paesi che hanno un maggior grado di diffusione del contagio quindi controlli più attenti alle frontiere ecco questi sono gli strumenti diciamo che vanno utilizzati e quindi concordo pienamente con quello che diceva Villa con la prudenza mi sembra che sia la linea Massimo Franco scelta anche dal governo una notizia e poi ti do la parola